Come credo si veda da queste stesse immagini, in piazza sono presenti soltanto le forze dell'ordine, i volontari, le associazioni e quanti accenderanno tra poco la scala, la luminaria, questo fantasmagorico spettacolo unico al mondo della scala illuminata di Caltagirone. Un evento che da popolare, qui ci sarebbero state 8, 9, 10 mila persone, normalmente è diventato mediatico, altre città si sono totalmente fermate quanto ai festeggiamenti del Santo Patrono, noi siamo riusciti con l'impegno e la organizzazione di tutti a poter salvare la nostra tradizione. Il 5 di agosto, per esempio, Caltagirone sarà il teatro naturale della manifestazione Cinema all'Aperto, patrocinata dalla regione e voluta da Dolce Gabbana e con i protagonisti per la proiezione di un docufilm che è firmato per le musiche da Ennio Morricone e per la regia da Peppuccio Tornatore. E Caltagirone ospiterà questo grande evento una delle 5 città siciliane prescelte, davvero un appuntamento da non mancare.